Cocco per... Ah, finalmente hai capito il massimo. Che mi servono per i posti? Ma qua è una fotografia per un bambino. Che bisogno di ombra? Con la pancia di sola. Questa è la famosissima spiaggia su cui c'è il vincolo paesaggistico che impedisce lo sviluppo del porto industriale di Cagliari. Il vincolo paesaggistico è per la tutela di questa bellissima spiaggia. E' sabbia bianca, finissima. Grazie. 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 Grazie.